ciao ragazzi ben ritrovati di nuovo sul mio canale voglio fare un saluto a marco labruzzo qualche settimana fa appunto mi aveva richiesto di fare il tutorial di selly la versione di fiorella mannoia io oggi ve lo propongo ma voglio prima di tutto spiegare due cosine marco mi ha fatto presente che c'erano diverse ghost note nel groove voglio dire una cosa prima di tutto la ghost note come l'apertura del charleston piuttosto che il flam sono tutte abbellimenti che possono essere inseriti io prima di tutto prima di lavorare appunto sulle ghost note vi consiglio di lavorare principalmente sui groove base belli puliti al massimo senza raddoppi sul charleston senza apertura appunto senza ghost note dopodiché quando avete preso dimestichezza su appunto questo groove potete iniziare a inserire le ghost note ed altri abbellimenti altre acciaccature perché parto con questo presupposto perché come tutte le cose se poi si sbaglia o comunque si inserisce in eccesso troppi abbellimenti si rischia di fare l'effetto contrario quindi il bel groove che noi sentiamo suonato da noi potrebbe risultare un po pesantino quindi sì agli abbellimenti assolutamente è una cosa che dovete avere nel vostro bagaglio ma non esagerate fatta questa premessa partiamo appunto con i groove base che noi troviamo i groove suonati con le ghost note e i fill poi come sempre qui sotto trovate il pdf della partitura completa su cui potete lavorare e suonare quindi oggi vi farò vedere i groove base i due o tre groove base che troverete nello spartito e alcuni fill allora nell'introduzione troviamo appunto i nostri groove in cui nella seconda misura vediamo già le nostre ghost note allora analizziamo la prima misura e la seconda misura senza abbellimenti senza ghost note la prima misura tutto charleston in ottavi suoneremo la cassa sull'1 e il rullante sul 3 è un tempo di mezzato 102 bpm seconda misura appunto suonata senza le ghost note sempre charleston in ottavi sull'1 troviamo la cassa sul primo ottavo e sull'ultimo sedicesimo sul 2 cassa sul secondo ottavo sul 3 rullante se noi non avessimo inserito le ghost note le casse sarebbero sull'1 ottavo puntato e ultimo sedicesimo e sul 2 il secondo ottavo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 stesso groove ma ve lo faccio sentire appunto con le ghost note come suonerebbe drag che anticipa la prima cassa dopo di che abbiamo appunto la prima ghost note sul secondo ottavo dell'1 e sul secondo sedicesimo del 2 quindi anticipa la seconda e la terza cassa per farvi capire meglio vi suonerò le prime due misure in loop 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 4 ok questo è il groove con le ghost note adesso analizziamo un po' i feel poi iniziate magari a lavorarci voi senza inserire appunto le ghost note e vedete come va vediamo un piccolo lancio che troviamo sul secondo finale indicato nella seconda strofa charleston in ottavi sull'1 e sul 2 sul 3 un charleston in sema rullante sull'1 troviamo primo ottavo puntato e ultimo sedicesimo di cassa appunto sul 3 troviamo la stessa figura però troviamo primo un colpo di rullante ultimo sedicesimo sul primo tom sul 4 un colpo sul secondo tom vi suono questa misura con la misura appena prima 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 prima misura nell'ultima riga della prima pagina anche qua troviamo sempre la prima parte del nostro groove base senza le ghost note poi sul 3 e sul 4 vediamo un piccolo feel piccolo feel che si divide appunto sul 3 rullante charleston sul primo ottavo sul secondo ottavo primo tom sul 4 troviamo due sedicesimi sul secondo tom e secondo ottavo sul timpano sempre suonata insieme alla misura precedente 1 2 3 4 1 2 3 4 sempre stessa riga ci spostiamo sulla quarta misura anche qui sull'1 charleston in ottavi cassa sul primo ottavo puntato e sull'ultimo sedicesimo sul 2 troviamo charleston sul primo ottavo sul secondo ottavo primo tom un ottavo puntato ottavo puntato sul secondo tom sul 4 abbiamo il timpano ok ottavi puntati vi spiego dove cade la nota sul 2 il primo tom cadrà sul secondo ottavo sul 3 il secondo tom cadrà sul secondo sedicesimo poi sul 4 il nostro timpano ve lo faccio ascoltare sempre suonando anche la misura che lo precede 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 arriviamo alla seconda pagina terza misura troviamo una misura un po' particolare anche qui sono tutti abbellimenti però mi piacerebbe farvela capire sull'1 abbiamo charleston in ottavi cassa sul primo ottavo puntato e sull'ultimo sedicesimo sul 2 solo col charleston abbiamo primo ottavo e ultimi due sedicesimi attenzione sul 3 abbiamo 4 sedicesimi divisi tra rullante e suonato col cross stick due sedicesimi di charleston e un altro sedicesimo su rullante sul 4 abbiamo sul primo ottavo uno splash o il crash e sul secondo ottavo charleston 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Nella seconda pagina quinta misura della quarta riga sull'1 e sul 2 il solito groove base sul 3 vediamo rullante sul primo ottavo insieme al charleston sul secondo ottavo primo tom sul 4 diviso in sedicesimi due colpi sul secondo tom e due colpi sul timpano 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 sul 4 abbiamo rullante sul primo tom sul 3 abbiamo due ottavi sul secondo tom sul 4 abbiamo prima i due sedicesimi e secondo ottavo sul timpano 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 3 ultima riga seconda misura che vede sempre sull'1 e sul 2 il nostro groove di base Sul 3 due ottavi, primo sul rullante, secondo sul primo tom. Sul 4 abbiamo i primi due sedicesimi sul secondo tom e sul secondo ottavo un colpo di timpano. One, two, three, four. Ultima misura sempre della stessa riga. Sull'1 vediamo Cassa insieme al Charleston sul primo ottavo puntato. Ultimo sedicesimo che suonerà sul primo tom. Sul 2 secondo ottavo sempre sul primo tom. Sul 3 troviamo un ottavo di rullante e uno sul secondo tom. Sul 4, primi due sedicesimi e secondo ottavo sul timpano. One, two, three, four. Questi sono i fill principali. La struttura potete controllarla appunto dal nostro PDF. Non ho voluto approfondire appunto i groove proprio perché ci sono due o tre groove base a cui poi viene inserito appunto delle ghost note. Spero appunto che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se volete potete lasciare i commenti. Se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e rimanete aggiornati sulle prossime novità. Non mi resta che augurarvi come sempre buon groove e buon divertimento. Alla prossima, ciao!